La proviamo, la proviamo, la proviamo, la chitarra, la chitarra chi la suona? Matteo! L'idea è venuta una mattina, mi sono svegliato, bella ciao, e ho detto facciamo qualcosa anche noi romani e non, perché poi Momo è abruzzese per esempio, di materialistico, senza essere materialisti. La cosa importante è che la gente sappia che questi soldi vanno veramente alla protezione civile per costruire veramente qualcosa e le case di legno che stanno preparando per l'inverno. L'altra cosa che spero succeda è che comunque ci si dica anche di mantenere vivo il ricordo e l'attenzione, perché quello che succede spesso in questi casi è che dopo poco, quando passa il polverone mediatico, ci si scorda, invece sarà più importante dopo continuare a pensare all'Abruzzo. Scusate, perché mi arriva una, sono qui in diretta con la regia, ecco, mi è stato appena detto che tutto quello che ha detto Silvestri è privo di senso. È privo di senso, sì. Esatto. Noi viviamo a Roma, quindi quando è arrivata la telefonata di Andrea Rivera non ho potuto esimmermi. Due musicisti della mia band sono proprio abruzzesi e sono qui con il loro cuore. E quindi questi eventi... Scusi, in Piazza San Pietro. Credo da quella parte. Credo da quella parte. Credo da quella parte.